Musica Si rafforza la presenza del Politecnico a Taranto firmata a Palazzo di Città la convenzione quadro tra il Comune Ionico e l'istituzione universitaria. E' attesa per la mattinata di lunedì 31 maggio la sentenza della Corte d'Assise per il processo ambiente svenduto dopo oltre dieci giorni di Camera di Consiglio. Continuano a protestare sotto la sede della Prefettura di Taranto i lavoratori ex Isola Verde che aderiscono ai Cobas Presidio sulla sicurezza dei sindacati davanti alla Prefettura USB in piazza a Talzano contro gli esuberi. Buon pomeriggio e ben ritrovati edizioni provinciali del nostro telegiornale in primo piano per quanto riguarda la fascia di Taranto e provincia il Politecnico. Si rafforza la presenza dell'università nella città ionica firmata a Palazzo di Città la convenzione quadro tra il Comune di Taranto e l'istituzione universitaria. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Svolta per il Politecnico a Taranto è stata firmata nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città la convenzione quadro tra il Comune di Taranto e l'istituzione universitaria per il rafforzamento della presenza del Politecnico nella città dei Due Mari. Il Comune consegna due palazzi storici, Deliponte e Galeota, che diverranno la sede didattica e amministrativa della Politecnico, garantendo un ulteriore miglioramento dei servizi offerti agli studenti. L'intesa è stata firmata dal sindaco Rinaldo Melucci e dal rettore della Politecnico di Barietta Aranto, Francesco Cupertino, che hanno rinsaldato il forte legame già esistente tra le due istituzioni. Come sapete Cuba ha 600 mila euro in tre anni, più la possibilità per il Politecnico di occupare degli immobili di pregio nel centro storico di Taranto e anche questo è un aspetto rinnovato di collaborazione, in particolare parliamo di Palazzo Galeuta e Palazzo dei Ponti. Ovviamente noi abbiamo stimolato il magnifico rettore Cupertino, che ringraziamo per la collaborazione, per l'amicizia, ad articolare e rendere sempre più innovativa anche per i nostri giovani l'offerta formativa e l'offerta didattica. I settori che caratterizzano il Politecnico, dall'ingegneria all'architettura al design, siano tutti fondamentali per quello che sarà il futuro della città di Taranto. Penso al recupero del suo centro storico, penso alla realtà industriali che dovranno per certi versi riconvertirsi con un'ottica di attenzione all'ambiente, con un'ottica di attenzione alla sostenibilità ambientale e che quindi potranno trovare dei punti di incontro con le varie anime del Politecnico. Noi dobbiamo portare laureati e ricercatori nelle aziende, perché siamo certi che la capacità di essere competitivi a livello nazionale e internazionale dipenderà dalla capacità di saper innovare. È attesa per lunedì mattina la sentenza della Corte d'Assise per il processo ambiente svenduto. Slitta lunedì alle 10 la lettura del dispositivo della sentenza del processo ambiente svenduto da parte della Corte d'Assise di Taranto e quanto fanno sapere le fonti giudiziarie. Ambiente svenduto è il processo che riguarda i reati di associazione delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvalinamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro imputati all'Ilva sotto la gestione del gruppo industriale Riva. Alla sentenza la Corte presieduta da Stefania Del Rico, giudice all'Atere Fulvia Misserini, si arriva dopo poco più di una decina di giorni di Camera di Consiglio. Il collegio si è infatti ritirato la sera del 19 maggio scorso, intorno alle 23, una volta chiuse le repliche dell'accusa e della difesa. I giudici sono riuniti in un'ala del complesso delle scuole sotto ufficiali della Marina Militare nella borgata di San Vito ed è nell'aula magna di questo complesso che lunedì mattina sarà letto il dispositivo. In questa sede, scelta per la sua ampiezza e disponibilità di spazi alloggiativi, si è svolta anche la requisitoria dei 4 PM del processo. L'accusa ha avanzato alla Corte pesanti richieste di condanna, 28 anni di reclusione per Fabio Riva, ex amministratore proprietario Ilva, e altrettanti anni per Luigi Capogrosso, ex addirettore del Siderurgico di Taranto, e Girolamo Archinà, il consulente dei Riva incaricato per le relazioni istituzionali. Chiesti in oltre 20 anni di reclusione per Adolfo Buffo, ex direttore del Siderurgico di Taranto e attuale direttore generale di Acciaieria Italia. Cinque anni sono stati chiesti per l'ex governatore della Regione Puglia, Niki Vendola. In complesso i PM hanno chiesto condanni a circa 400 anni di reclusione. Diverse sanzioni pecuniarie verso le società imputate e la confisca degli impianti siderurgici di Taranto. Andiamo sempre lì Siderurgico e il sindacato USB in piazza a Talzano. L'USB scende in piazza per dire no ancora una volta agli esuberi da parte di Arcelor Mittal in Vitalia. A seguito dell'ennesima riunione con il Ministro dello Sviluppo Economico sulla complessa situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, scrivono L'unica certezza venuta fuori dall'incontro è una generica dichiarazione di esuberi che la compagnia Arcelor Mittal in Vitalia si appresterebbe ad ufficializzare con le ovvie conseguenze che ricadranno, come sempre, sulla pelle dei lavoratori e tra l'altro senza aver presentato nessun piano industriale. Per l'unione sindacale di base i primi 400 milioni versati dal governo dovevano servire a rilanciare le manutenzioni straordinarie degli impianti fatiscenti e a garantire la sicurezza della fabbrica. Dopo neanche 20 giorni i soldi proseguono, sono letteralmente spariti, altro che manutenzioni, sicurezza, ambiente e salute. USB continua a ribadire che l'unico strumento che può dare risposte ai lavoratori e alla comunità tutta è un accordo di programma con al suo interno la piattaforma da USB più volte proposta alle istituzioni, che parta da tre punti fondamentali e cioè dal riconoscimento del lavoro usurante, garanzia del reddito attraverso i lavori LPU e l'incentivo ampio, il tutto a salvaguardia della salute e del reddito. Oggi facciamo il punto della situazione con i lavoratori dei reparti più a lungo in cassa integrazione. Lavoratori tra l'altro, gruppi di lavoratori che sono stati in maniera poco chiara già indicati come eventuali esuberi su un piano industriale che tra l'altro noi ancora non conosciamo. Abbiamo fatto delle proposte, abbiamo detto guardate secondo noi bisogna mettere in campo delle alternative vere partendo da quelle che sono le problematiche dei lavoratori e i lavoratori chiaramente, questa massa di lavoratori sono lavoratori che hanno un'età media intorno ai 45, un'età contributiva intorno ai 22, quindi c'è un mix di proposte che abbiamo fatto al governo che devono guardare come dire al traghettamento di questi lavoratori, all'accompagnamento di questi lavoratori verso la pensione o verso opportunità concrete, reali. Parliamo di istruzione con formare Puglia a Tirpino e all'estero per 100 studenti. Ragazzi alla scoperta dell'Europa con un progetto lanciato da formare Puglia APS nell'ambito del programma Erasmus più VET. L'iniziativa Strategic Thinking and Acting di mobilità transnazionale mira a favorire l'occupazione dei giovani pugliesi, l'opportunità è rivolta a 100 giovani neodiplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio formativo della durata di 120 giorni in aziende estere operanti nell'industria del turismo e della ristorazione, specificatamente a Malta, Francia, Spagna e Irlanda. Alla presentazione hanno partecipato le scuole e i partner che fanno parte del progetto, oltre ai referenti dell'ente Formamentis. Ci siamo giudicati questo progetto nel 2020 con una graduatoria che ha visto ben 73 progetti approvati con Formare Puglia che si è posizionata all'undicesimo posto. In tutto in Puglia sono stati approvati 5 progetti e noi abbiamo avuto una grande soddisfazione perché finalmente oggi riusciamo a partire già con le prime attività, con i primi ragazzi che partiranno il 7 di luglio o comunque entro luglio per Malta e per la Francia. L'obiettivo principale del progetto è appunto fare entrare i ragazzi nel mondo del lavoro, facendoli sviluppare competenze trasversali e migliorare la loro competenza anche linguistica. Una duplice opportunità. La prima, quella di avere un primo assaggio del mondo del lavoro, farlo all'estero e la seconda, sicuramente di riflesso, rientrare e mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale pugliese ciò che si è appreso in questi mesi di mobilità. È la prima volta che approviamo all'estero per un lavoro, quindi io lavorerò nel settore della distruzione. Polemiche prima della cerimonia per la riapertura del Castello Alfonsino, il sindaco non ha gradito l'estromissione del comune da parte della soprintendenza ai beni architettonici. Uno spot contro l'abbandono dei rifiuti realizzato da Ecotecnica in collaborazione con il comune di Brindisi. Residenti preoccupati chiedono spiegazioni al comune di Francavilla Fontana sull'installazione di un'antenna 5G su via di Bagno. Ecocin Studio, edizione dedicata a Brindisi, in primo piano la riapertura del Castello Alfonsino. Ci sono state però delle polemiche. Già Marco di Napoli. La soprintendenza non si è presentata per otto mesi. No, no. Quindi lei viene e facciamo un piano di valorizzazione del Castello. Stia tranquilla, lei deve accordarsi col comune di Brindisi. E' un'altra cosa. Prego. Prego. Inaugurazione al veleno per il Castello Alfonsino di Brindisi, riaperto ufficialmente alle visite guidate dopo una lunghissima chiusura al pubblico e lavori costati 5 milioni di euro gestiti dalla soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici. Obiettivo degli strali del sindaco Riccardo Rossi proprio l'ex soprintendente Maria Picarreta, attualmente segretaria regionale del Ministero della Cultura. Sapere due giorni prima che c'è un'inaugurazione del castello è di una scorrettezza unica. Assolutamente unica. Quindi questa cosa è intollerabile, l'ho già detto anche al nuovo sovrintendente, che deve essere a disposizione della città. Quindi innanzitutto adesso dobbiamo ristabilire i comportamenti corretti con la sovrintendenza. Da adesso, immediatamente, non c'è un numero a cui fare riferimento per 20 visite e cose di questo tipo, perché questo non lo dice la normativa anti-Covid. Tra poco saremo poi in zona bianca, l'abbiamo detto, dal 14 di giugno noi speriamo tutti saremo in zona bianca e con la zona bianca ci deve essere la piena fruibilità del castello. Il sindaco ha seguito così a distanza, senza parteciparvi direttamente, prima la scopertura di una targa che celebra la conclusione dei lavori e poi il taglio del nastro ufficiale. Il team di architetti che ha effettuato i lavori ha quindi spiegato le tecniche utilizzate e guidato i presenti all'interno della struttura. Da oggi pomeriggio noi abbiamo studiato un percorso di visita che rende visitabile tutto il castello. Si vedranno anche alcune parti, si traguarderanno alcune parti ancora da restaurare. Il castello enorme, il monumento, tutto il complesso monumentale, il castello e il fortammare sono grandissimi. Continueremo, ma continueremo lasciando sempre aperto il percorso di visita, perché ormai è sistemato, restaurato, senza barriere architettoniche. E il cantiere che tra qualche tempo si ricomincerà in una parte ancora da restaurare sarà parte a suo stesso del percorso di visita che è stato appena concluso. Le visite guidate sono state affidate all'associazione Le Colonne Arte Antica, che gestisce già la collezione archeologica Faldetta nella palazzina del Belvedere. Parliamo invece del castello di Oria, perché dopo un approfondito e serrato confronto la proprietà, ovvero la Borgo Ducale, ha avviato con l'amministrazione comunale di Oria un procedimento amministrativo di indubbia legittimità, convinta che si tratti dell'unico strumento teso a conseguire l'obiettivo auspicato da più parti che consenta non solo l'utilizzazione del bene, anche in favore della collettività. Così la Borgo Ducale in una nota e quindi l'apertura del castello di Oria potrebbe, lo speriamo tutti, essere vicina. Parliamo ora di ambiente. Uno spot contro l'abbandono di rifiuti realizzato da Ecotecnica in collaborazione con il Comune di Brindisi. Un video contro l'abbandono di rifiuti è stato realizzato in collaborazione tra Comune di Brindisi ed Ecotecnica. È rivolto alla parte buona della città, quella che deve sollecitare il circa 10% dei cittadini brindisini che ancora abbandonano rifiuti ovunque. Non si può parlare più di non conoscenza di quelle che sono le regole della raccolta differenziata, non si può parlare di ignoranza in questo senso, si può parlare solo di cattiva volontà. E quindi noi con questo video vogliamo sensibilizzare soprattutto, come diceva detto lei, la parte buona della città, che ci dia una mano a sensibilizzare chi è accanto e che magari non rispetta le regole basilari o a denunciare o a farsi portavoce di buoni principi che oggi devono essere veramente fondamentali perché l'ambiente ha bisogno di una mano da parte di tutti. Migliorare la percentuale del 50% di raccolta differenziata è questo l'obiettivo che si pone il Comune di Brindisi, come sottolinea Riccardo Rossi, sindaco del capologo messafico, che aggiunge un video meraviglioso che mette in evidenza il contrasto tra le bellezze della città che vanno salvaguardate e purtroppo ancora l'abbandono dei rifiuti. Noi abbiamo come amministrazione Ecotecnica messo a disposizione tutte le possibilità per poter conferire correttamente i rifiuti. Ci sono le isole ecologiche, c'è il numero verde per il ritiro degli ingombranti, c'è il centro di riuso, insomma c'è tutto. Bisogna avere la civiltà e anche la volontà di utilizzarli questi mezzi. Per cui questa campagna ben venga perché dobbiamo assolutamente sensibilizzare tutti al rispetto e all'amore per il territorio. Torniamo a parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro anche a Brindisi, il presidio dei sindacati. Fermiamo la strage dei luoghi di lavoro. Con questo slogan sono scese in piazza anche a Brindisi CGL, CISL e UIL. L'obiettivo? Chiedere al governo di definire un accordo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che attragga le risorse della PNRR destinate alle imprese, non solo per l'occupazione e il rispetto dei contratti, ma anche e soprattutto per il rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza attraverso formazione continua, ispezione e controlli. Il lavoro serve per vivere e non per morire. Ancora oggi i dati, gli stati ci dicono che troppi sono i morti sul posto di lavoro, quindi occorre cambiare sicuramente il paradigma, investire nel capitale umano, nella sicurezza e quindi c'è bisogno di tanta formazione, ma un altro punto deve essere centrale è quello di rivisitare e rimodulare tutti quanti fa bisogno nelle entità produttive. C'è sempre più carenze di personale ovunque, quindi carichi di lavoro enormi e questo significerebbe poi generare anche occupazione, buona occupazione e sicurezza sul lavoro. Noi vogliamo riportare questi temi proprio sull'agenda nazionale proprio perché si stanno discutendo cose importanti, il piano di resilienza, il codice degli appalti, sono tutte questioni che contengono dentro anche i temi della sicurezza e non è possibile che non vengono stanziate risorse in più proprio per cercare di permettere ai lavoratori che ogni giorno si regolano sui posti di lavoro per andare a lavoro, per lavorare e non per morire. Noi abbiamo un accordo, un patto che fu fatto nel 2009 qui in prefettura dove parlava della sicurezza, parlava dell'ambiente, parlava dei posti di lavoro, parlava di un'attenzione all'interno di un sistema organizzativo di lavoro molto molto utile e necessaria ad affrontare le problematiche. Parliamo ora di tecnologia con il Wired Digital Day. Il nuovo futuro, quello della Next Generation Puglia, in scena presso il nuovo Teatro Verde di Brindisi, tra streaming e presenza. Una modalità nuova e una differente città che ospita per la prima volta la manifestazione. Due simboli dell'incontro, il digitale, cioè la tecnologia che ha consentito di realizzare l'evento nonostante le restrizioni ancora vigenti per i convegni, e Brindisi, la città candidata a diventare la capofila della rivoluzione green della Puglia e del Mezzogiorno. Partire dalla discussione e dibattito regionale proprio da Brindisi, città che ha bisogno di uno slancio propositivo di sostenibilità, di guardare al futuro con grande coraggio e che sta affrontando già il tema della riconversione di Cerano. Ho scelto Brindisi perché è una città simbolo ed è insieme con Taranto con cui ci sarà quest'asse perché la regione investirà, e questo è uno dei progetti più importanti, molto sulla ricerca, sulla ricerca per esempio delle alternative che fino a questo momento abbiamo messo in campo. Discutere di transizione ecologica significa discutere della vita di questa città, una città che negli ultimi 60 anni ha vissuto in un'industria pesante, petrolchimico, la chimica, gli nitrocarburi, le centrali termoelettriche a carbone. Ecco, si sta chiudendo una fase storica, la si apre, la si apre in tutto il mondo ma la si apre anche qui a Brindisi. Questa è una città che deve assumere, deve avere consapevolezza di quello che è e di quello soprattutto che può essere e può ritornare ad essere. Confindustria si sta impegnando in questo senso per attirare investimenti che siano investimenti green. A Francavilla Fontana, residenti di Via Divagno preoccupati per l'installazione di un'antenna 5G. E spuntate in pieno centro cittadino e precisamente in Via Divagno a Francavilla Fontana hanno maxi antenna 5G. La posa vera e propria su di un terrazzo di un'abitazione privata sarebbe avvenuta grazie al silenzio e senso del comune. Un lavoro eseguito tra lo stupore ma anche l'incredulità dei residenti. E proprio una settantina di residenti lo scorso 26 maggio hanno firmato una petizione indirizzata al sindaco Antonello Denuzzo per sollecitarlo in qualità di massima autorità locale responsabile della salute pubblica ad un'attenta verifica in base al principio di precauzione con l'impegno di rivedere con l'operatore una rivalutazione della posizione dell'antenna. I firmatari sottolineano anche la presenza nelle vicinanze di diverse scuole. Portavoci di questo fortogruppo di cittadini preoccupati dall'installazione delle antenne 5G in territorio comunale e Mimmo Bungaro, coordinatore cittadino di Forza Italia. Come esponente politico mi chiede, dice Bungaro, com'è possibile che l'assessore dell'ambiente Antonio Martina non sapesse dei lavori per l'installazione dell'antenna, visto che la stessa è ubicata proprio sopra al suo studio professionale, ovvero sul tetto di un'abitazione del piano superiore. Lo stesso Bungaro è preoccupato pure per le diverse pratiche di installazione di antenne per la telefonia mobile giacenti presso l'ufficio comunale. Con il silenzio assenso, riferisce sempre Bungaro, altre maxi antenne potrebbero spuntare come funghi all'improvviso. Occorre che il Comune proceda con molta cautela per evitare le preoccupazioni legittime dei cittadini. Il 5G è un sistema che permette il passaggio di dati a velocità elevata, anche 100 volt in più dell'attuale connessione 4G, usata dalla stragrande maggioranza dei telefoni cellulari. Un caso che preoccupa gli ambientalisti. Torna così ad accendersi a Francavilla Fontana il dibattito sul 5G, ma anche sui rischi dati dalla concentrazione delle emissioni elettromagnetiche. Rapporti tesi a Palazzo Carafa, tra maggioranza e opposizione, il consigliere Pala parla di regime dittatoriale. Furti a raffica nei box auto a Lecce, l'esasperazione è tanta e c'è chi ha deciso di pubblicare il video che immortalà l'autore di uno dei furti nella speranza che possa essere presto individuato. Ambulanze del 118 senza medici e infermieri, la CGL chiede un incontro alla ASL. Ben trovati di nuovo in diretta con l'edizione dedicata a Lecce. In primo piano i rapporti tesi a Palazzo Carafa, tra maggioranza e opposizione, c'è chi parla addirittura di regime dittatoriale. Il nostro primo servizio. Consigliere, continuano i rapporti tesi tra opposizione e maggioranza insieme al Comune di Lecce. Questa volta voi addirittura parlate di bavaglio messo dall'amministrazione comunale all'opposizione. Perché? È un termine forte quello che utilizzate. Allora, questa amministrazione che si è autodefinita del cambiamento della partecipazione delle finestre stampagnate, come dicevano anni fa, in realtà utilizza metodi di stampo totalmente antidemocratico per mettere il bavaglio all'opposizione. L'ennesima prova di tutto questo è avvenuta qualche tempo fa quando i consiglieri comunali di maggioranza hanno eccepito la partecipazione di ospiti, di consulenti esterni alle commissioni di controllo, addirittura dicendo che gli ospiti esterni possono partecipare soltanto alle commissioni permanenti, mentre le due di controllo no, perché probabilmente figlie di un dio minore. A quel punto hanno fatto avvalorare questa loro idea da un parere del segretario comunale che noi abbiamo contestato insieme al collega Scorrano, presidente dell'altra commissione di controllo, non solo riesumando analogo parere del precedente segretario comunale Specchia, che è totalmente in contrasto e che garantisce la presenza di ospiti esterni a qualsiasi commissione consigliare, ma andando oltre e chiedendo all'avvocato Pietro Quinto, principe del foro leccese e la cui fama lo precede, quindi non ha bisogno di presentazioni, chiedendogli di fare un parere pro veritate, cioè uno studio di oltre 5 pagine in cui sia a livello grammaticale, sia a livello esegetico, sia a livello effettivamente giuridico smonta totalmente quelle che sono le idee dei consiglieri comunali e del segretario comunale. Questo parere che noi abbiamo prodotto mandandolo alla presidenza del Consiglio e a tutti i consiglieri garantisce inequivocabilmente la partecipazione di consulenti esterni alle commissioni, ma non è questo il grave perché noi eravamo certi della nostra ragione. Il grave è ancora una volta che ci sia un tentativo di mettere il bavaglio all'opposizione, andare a contestare la partecipazione di consulenti esterni alle commissioni di controllo, che sono l'unico organo deputato a controllare l'attività dell'amministrazione, beh, a me questo sa tanto di regime dittatoriale, non di un'assise democraticamente letta che garantisce l'opposizione dei ruoli nelle commissioni di controllo, proprio perché lo Statuto e il Regolamento prevedono così. Sono diversi giorni che a Lecce vengono presi di mira box auto. Questo è il video di uno dei tanti assalti che si stanno perpetrando in vari quartieri della città. Non si sa se ad agire in tutti i colpi registrati finora sia stata la stessa mano o più mani. In questa circostanza si nota un giovane, capelli rasati, mascherina anti-covid scura, che armato di cacciavite o tenalia, si intrufola all'interno di uno dei tanti box presi di mira. Il sistema è lo stesso, chi agisce lo fa perforando la seratura e una volta dentro sottrae bicicletta, monopattini, utensili da lavoro e ciò che di pratico si può portare via. Il video è nelle mani delle forze dell'ordine che stanno cercando di identificare il soggetto. Addirittura in un caso è stato anche abbandonato parte del bottino di un altro colpo. Giorni fa, in via Gramsci, i ladri hanno fatto visita in sei box portando due biciclette e materiale da lavoro, ma i poliziotti hanno trovato due tanniche di ole extravergine di oliva che erano state asportate poco prima da uno dei box auto scassinati lungo via Legrassi. Segno che i ladri le hanno abbandonate perché l'intero malloppo stava diventando oramai troppo ingombrante e hanno dovuto rinunciare a qualcosa. Ambulanze del 118 senza medici e senza infermieri. La CGL chiede un incontro all'Asla. Ambulanze senza infermieri e medici del 118 in convenzione pronte a dimettersi in massa. Il personale è allo stremo sovraccarico di lavoro e a patire questa condizione insieme ai lavoratori e lavoratrici sono i pazienti. La funzione pubblica CGL di Lecce ha scritto alla direzione generale dell'Asda sollevando il problema e chiedendo un incontro urgente. Per la FIP il rischio di errore e di infortunio sul lavoro diviene ancora più alto di fronte a tale criticità. Non a caso sono già numerose le richieste di trasferimento di reparto ed esenzione dal servizio sul mezzo mobile, spiega Floriano Polimeno, segretario provinciale CGL Lecce. Chiediamo al direttore generale un intervento risolutivo. Ambulanze senza infermieri nelle postazioni india del 118 a Lecce, insomma, proprio nel capoluogo nell'ultimo anno, quello che doveva essere un'eccezione è diventata sempre più spesso una prassi, in particolare nelle autoambulanze Stadio, Santo Ronzo e Vecchio Fazzi. Una situazione che a catena crea disequilibrio, specie di fronte a situazioni di emergenza. Di fronte a un evento straordinario, occorre con sempre maggiore frequenza ricorrere alle ambulanze dell'ospedale Vito Fazzi, distraendo il personale in servizio e sovaccaricandolo di attività che, secondo il piano di organizzazione territoriale del servizio 118, avrebbe dovuto essere appannaggio delle postazioni suscitate. Chiedere sacrifici sempre solo allo stesso personale e paradossale, dice Polimeno. Lavoratrici e lavoratori sono stremati dal carico di lavoro e dalla responsabilità. Nuova proroga in tema di ZTL. Leccesi in ritardo nella presentazione delle domande, uffici ingolfati di richieste ed è in arrivo una nuora proroga di 30 giorni per il rilascio dei pass ZTL il secondo mese dopo, come già per tutto maggio nel centro storico in Lecce sono transiate centinaia di auto con i vecchi permessi. La conferma da parte dell'assessore della mobilità Marco De Matteis, nuove regole per l'accesso al centro storico in vigore dal 1 maggio, ma i possessori dei vecchi permessi avranno ancora un mese per muoversi senza limiti di orario o pericolo di multe. Altri 30 giorni in cui chi ha il vecchio pass potrà circolare liberamente. Il Comune aveva già concesso un'apriola proroga, la scadenza iniziale era fissata per il 30 di aprile. Poi però la scelta di spostare tutto fino a maggio per cercare di permettere sia ai retardatari, ma soprattutto per dare respiro agli uffici alle prese con centinaia di istanze da smaltire. Nell'ultimo mese però nonostante il settore traffico abbia evaso numerose pratiche, circa 2000, sono ancora tanti gli automobilisti provvisti di permessi e allora ancora altri 30 giorni per i ritardatari ma anche per l'ufficio per permettere l'avvio della nuova era di viabilità all'interno del centro storico di Lecce. Le notizie in breve da Lecce Provincia. Distrutti dalle fiamme i rifiuti raccolti e stoccati dai volontari, l'incendio è scoppiato nei pressi della zona industriale di Galatone. I sacchi erano stati sistemati nei pressi del dismesso impianto a biogasso e lungo la copertina Galatone. L'associazione Verdi Ambienti e Società, presieduta da Maria Teresa Corsi, aveva allertato già ad aprire il comando della polizia locale che era in attesa dello smaltimento. Qualcuno però ha pensato bene di risolvere il problema, bruciando tutto. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno dovuto circoscrivere e spegnere l'incendio, rischiava di propagarsi anche alle strappaglie circostanti. Porta la firma di commedia, la web agency Leccese, il nuovo sito di Atac, l'agenzia del trasporto autotranviario del comune di Roma, online dal 27 maggio. Il sito è stato pensato e realizzato per garantire la migliore esperienza possibile all'utente finale, fornendogli ciò di cui ha bisogno, nella maniera più facile e immediata possibile, attraverso informazioni chiare e una consultazione semplice e intuitiva. Attraverso il sito, che contiene lo stato del servizio, in cui sono riportate in tempo reale le informazioni sullo stato dei vari mezzi e delle varie tratte, l'utente può facilmente consultare i tempi di attesa alle fermate, scoprire quali fermate sono in prossimità della sua posizione e quali servizi sono attivati per ogni singola stazione. Sono 14 i licei finalisti per il sud della Puglia, che sabato 29 maggio alle ore 15 si sfideranno online per salire sul podio del premio Asimov per la divulgazione scientifica, un'iniziativa nazionale affidata per le province di Lecce, Bindisi e Taranto al Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi dell'Università del Salento e alla sezione INFS di Lecce, coordinatore e il professore Andrà Ventura, docente di Fisica Sperimentale a Unisalento, in collaborazione con Viola Laura, responsabile della Biblioteca del Dipartimento. Il premio è nato dalla collaborazione tra l'INFS, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e numerosi Atenei e realtà scientifiche e culturali, ideato dal fisico Francesco Vissani, seleziona i testi sulla base delle valutazioni di una commissione scientifica nazionale, costituita da centinaia di insegnanti scolastici e universitari, nonché scrittori, giornalisti ed esperti di comunicazione, che ha il compito di selezionare ogni anno cinque opere finaliste. È tutto per la cronaca, buon proseguimento.